allora signori tenetevi forte perché lei è bella è perché proprio bella l'ho detto poco fa signora come bella grazie e merito del mio papà e della mia mamma crista solbach una donna la cui vita è indissolubilmente legata alla vespa guardate queste immagini lei è miss vespa la signora la signora della vespa ma questo libro ve lo mostrerò dopo perché da questo libro noi abbiamo saccheggiato tante tante fotografie ovviamente la signora della vespa incredibilmente classe 1936 applauso grazie 88 anni compiuta il primo di luglio e peso 49 kg è tutto lì signora amo i gatti e i gatti si bravissima i gatti tutti quelli raccogli che raccogono quelli poveretti a casa dove c'è la casa vicino a terracina sì dove il mio piccolo paradiso e vespa eccoli qua infatti c'è un gatto c'è la vespa questa fotografia questa signora che ha raccontato appunto la sua storia in questo libro edito da cld libri curato da alessandro lanzarini che ringraziamo vede nascere questa passione per la vespa quando quando è che lei ha detto ma vive questa nasce proprio dai familiari dei fratelli di mia mamma quelli erano scatenati gli piaceva la moto e poi mia mamma invece la macchina perché mia mamma io sono nata 36 proprio nella guerra non c'erano più uomini e lei era capace guidare le macchine andava dal contadino prendere le patate anche non ci aveva ancora la patente niente e era proprio questo motore quella passione per i motori passione sì e poi anche i fratelli che dopo la guerra che sono poi un fratello è stato fortunato perché lavorava presso una ditta che costruiva i ponti in belgio mia nonna è andata a trovare suo marito in belgio e lui è nato lì come tedesco in belgio no perché noi la stiamo sì certo 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 allora lui non è venuto prigioniero perché era belga e l'hanno lasciato andare e lui è molto presto poteva ritornare a St. Brücken e lui era quello con la moto lui ha cominciato con la moto era proprio la immagino lei piccolina che viene portata sulla moto è iniziato così insomma è sì perché come gli dicevo mia mia mamma è rimasta presto molto presto vedova mio padre era in russia al fronte come croce rossa a raccogliere i feriti e lui lì purtroppo è passato su una mina e mia mamma con 27 anni era già vedova allora io stavo da mia nonna dove era anche il suo fratello e lì con la mia cugina noi due siamo cresciuti in quell'ambiente di moto allora cresciute nell'ambiente di moto io adoro questa signora allora a 18 anni partecipa al primo grande raduno europeo dei Vespisti a Parigi ve l'ha immaginata a 18 anni se oggi questa signora stupenda è così a 18 anni avrà fermato il traffico e nel 55 viene incoronata Miss Vespa Saar sì la Saar era quel piccolo vicino a Luxemburgo la Saar era questo paese che una volta era con la Francia una volta con la Germania si spostava un po' come la Vespa fermi lì allora attenzione guardate la bellissima splendida Miss Vespa Saar tra poco all'ora solare non avete idea di cosa sia successo durante la pausa pubblicitaria la signora la signora Christa Solbach che è la signora della Vespa mi dice col suo fare che per scattare questa fotografia c'era una fotografa e giornalista che l'aspettava lei ha fatto al functum che è l'attore di comunicazione di Berlino è conosciuta assolutamente lasci stare Berlino quanti chilometri ha fatto lei in due giorni io ho fatto 700 chilometri in due giorni sulla Vespa e certo sulla Vespa non è mai scesa e certo per fare benzina e qualche volta andare al bagno l'ho ancora detto dall'inizio dell'anno cestino questa signora finisce nel cestino del loro salario no me la voglio ninnare a casa e avevo nel scusi avevo nel cofanetto della Vespa sempre delle uova bullite e un po' di pane e quello mangiavo io per strada a lei per strada mangiava le uova bullite certo ogni tanto doveva fermarmi mangiare sì e alla mattina guardi una mattinata io questo è una cosa fa ridere tutti e quando qualche volta veniva anche i ragazzi del club che facevano i raduni era famosa che quando venivano a suonare alla mia porta io dicevo guardi non sono ancora pronta perché devo far bullire le uova e avevo sempre le uova nel cofanetto sa dove sono i attrezzi le chiavi per la candela la candela per cambiare e le uova io mangiavo le uova un pezzo di pane signori da domani uova bullite e pane più che se fanno diventare come la signora crista subito allora attenzione lei ha girato tutta l'europa a capo dell'organizzazione dell'euro vespa abbiamo le macchie del raduno a ponte delle macchie scusatemi un gergo tecnico abbiamo le immagini del raduno di ponte d'era perché chiaramente la vespa è un nostro vanto certo ponte italiana e piaggio e noi avevamo noi avevamo invece i veicoli francesi perché noi facciamo parte della francia i nostri vespa venivano fatto su certamente la piaggio sempre la piaggio certo ma su licenza a forchampo erano francesi ma non era la stessa come quella italiana e no e c'era sempre la cosa e no e no e no allora incontra papa giovanni paolo secondo guarda guardate lì ma quanto sono belli ma è una meraviglia un'invasione di vespa si è giusto è un'invasione stupenda meravigliosa favolo il mio mondo io volevo vedere il mondo conoscere le persone dopo la guerra no perché noi c'era la guerra la paura e tutto uscire essere liberi questo era il nostro sogno e da giovani in quella epoca lì poi io avendo questa vespa ma fortunata e potevo vedere il mondo conoscere le persone sapevo che questo e poi alla fine eravamo tutti uguali no ma di che colore era la sua prima vespa? è colore della vespa grigia grigia sì sì quella francesa quella grigia sì la vespa grigia guardatela in questa fotografia voglio dire questa è rossa quella italiana dopo certo però guardate la bellezza di questa donna in sella alla sua vespa e poi questo questo nastro dove un ragazzo del mio club aveva un negozio di pelletteria vendeva boss e tutto e lui mi ha regalato questo nastro dove io mettevo tutte le targhette dove ho partecipato e attaccavo io e ce l'ho ancora a casa questo nastro bello ma io non ne dubito io trovo questa signora eccezionale non so voi una meraviglia di donna ascolti a papa giovanni paolo secondo siamo nel 1986 in partenza per il raduno internazionale eurovespa di barcellona guardate l'aria divertita di papa giovanni paolo secondo cosa ha detto? no guarda che è una cosa bellissima lui mi ha detto adesso vado a barcellona ma come mi piace che ho fatto questa manifestazione per i giovani lui diceva quelle belle che conoscono il mondo allora io ho raccontato siamo in partenza per andare a barcellona che c'era quel grande raduno internazionale lui diceva ah mi ricordo che sono stata io lì vicino c'è il posto dove un po' fuori saranno cinque chilometri dove c'è una specie di ritiro dei frati e allora io sono stata lì tempo fa oh mi ricordo c'era un temporale un temporale e allora lui ha detto ma certamente se voi dovete andare andate a vedere i frati e porti il mio saluto e io ho detto ma certo che lo faccio allora noi avevamo già previsto lì di fare fare una messa in ricordo del dottor Piaggio e lì andavano i presidenti c'era anche le Adi che una volta è stata insomma con noi siamo andati lì insomma avete portato i saluti del papa allora no sì ho portato questa è una cosa veramente mi ancora impressiona oggi e poi dopo la messa nel ritiro lì di fianco c'erano i frati perché questo veniva tutto il gestito dei frati allora noi potevamo salutare qualcuno qualche personaggio c'era anche il signor Le Adi e due o tre presidenti nel piccolo ci potevamo salutare questi frati ma proprio frati no il ritiro signora se erano frati erano frati per forza ma guardi è una cosa no 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 ma lei mi dica ma lei le ha portate i saluti del papa quello volevo dire io ho detto guardi io devo dire che devo portare il saluto del papa si ricorda che qui quando è stato c'era il gran funerale temporale e lui diceva ma no mi prendeva c'era un frato proprio ma erano vestiti proprio come un sacco no direttivo e questo mi prendeva la mano e diceva ma davvero il papa il papa si è ricordato che è stato da noi come l'ha detto in un modo così io dovevo proprio sforzarmi per non abbracciarlo e piangere questo frate era felice vedete signora lei è stata un ponte perfetto vedete un incontro col santo padre e poi un ponte perfetto con tutti quei chilometri fatti in vespa per portare questo messaggio guardando questa fotografia temevo che in quel momento lei avesse detto al papa santità se vuole io la porto in vespa insomma lei è venuta l'idea lo dica che l'ha sfiorata e poi mi ha chiamato la seconda volta ecco l'ha sfiorata l'idea la seconda volta e lui mi ha detto ma non ci conoscevamo già prima ecco perché era una gara tra persone che si ricordavano al primo colpo poi sento mio figlio che è qui che mi ha accompagnato lì quando ci ha salutato ho detto guardi ho portato anche mio figlio senta signora ma lei che è vespista sì è vero che sognava di fare la ballerina sì da piccola sì da piccola ho fatto anche un anno di balletto al teatro di San Prucco mi piace ballare quella è la parte di mia madre che aveva un temperamento mia mamma ballava quasi quasi sì quello era veramente come tutte le bambine penso no? no signora lasci stare a me mi hanno buttato fuori dalla scuola di danza andiamo a vedere il museo della Vespa e la nostra Marta Manzo ci porta lì lasci stare la danza con me è tutto un altro discorso no, andiamo noi organizziamo tour con le Vespe, i noleggi però ho voluto creare anche un museo e questo posto ha l'accesso gratuito in maniera che tutti possono entrare tranquillamente per innamorarsi della Vespa è un pezzo della nostra storia qualcosa che ha cambiato il modo di muoversi non dico che ci sono nato sopra ma quasi perché mio nonno mi portava con la Vespa andavamo in campagna naturalmente in quel periodo vivevo in campagna e quindi eravamo così questo è il primo modello del 46 e piano piano andando avanti si percorre il percorso dei differenti modelli della Vespa in tutto sono 15 pezzi alcuni sono i miei e alcuni sono di Roberto Leardi che è il presidente del Vespa Club ho voluto portare in questo spazio museale vari modelli miei che rappresentano un po' la storia della Vespa nel tempo in particolare il modello a cui ci sono più legato è la Vespa Gran Sport mi ricorda un periodo diciamo di corse e gare di gran fondo una cosa particolare che ci è successa quando abbiamo aperto dieci anni fa il museo è arrivato questo ragazzo Endileano indonesiano dall'Indonesia con questa Vespa si è fatto 32 mila chilometri in un anno e tre mesi il via gliel'ha dato il re dell'Indonesia c'è anche il marchio e poi ce l'ha lasciata qui in maniera che possiamo vederla sempre L'amore per la Vespa non si è mai fermato alcuni hanno la Vespa nel sangue e la portano avanti nel tempo alcuni sono Vespisti di ritorno si accorgono che hanno avuto una Vespa, che il papà ha avuto una Vespa poi la vogliono rimettere a posto è stata esportata in 220 paesi ed ha lo stesso amore e lo stesso affetto da parte del Vespista in tutto il mondo la Vespa è qualcosa di particolare, dà un senso di vita, è quello che mi dà ah che meraviglia, grazie alla nostra Marta Manzo signora, lei nel 1984 viene scelta come primo presidente della federazione internazionale dei Vespa Club è stata presidente della federazione internazionale di tutti i Vespa Club di tutto il mondo? di tutto il mondo, sì, la faccio per vent'anni le ha fatto piacere essere nominata? mi conoscevano mi conoscevano mi hanno votato loro ma come facevano a non votarla? mi conoscevano ma che signore la conoscevano? Lei è una forza della natura no, perché io ho girato già anni prima, tutti mi conoscevano dall'estero ha capito e loro hanno detto perché e poi parlo tedesco, parlo italiano, capisco un po' di inglese, francese non è solo questo io credo che lei allora poi mi conoscevano e loro hanno detto meglio che lei che conosce tutto sa parlare lì, qui e la vogliamo e così sono stata votata signora, no, lei è stata votata perché è bravissima oggi ha tutto il resto nel 1958 lei sposa Pietro Rozza dirigente del Vespa Club Italia no, di Torino di Torino chiedo scusa era nel consiglio del Vespa Club e questo l'ha portata a vivere in Italia sì, e lui è stato è stato l'amore che mi ha portato in Italia ma andavate in Vespa insieme? no, lui era solo dirigente no, in Vespa, in Vespa non ci saliva? non l'ho mai visto in Vespa lei guida spericolato o guida normale? no, io sono molto attenta, sono responsabile lei è tedesca signora no, insomma, venga ma quello che è l'ha detto con la mano così esatto però guardate che belli, scusate anche se è mio marito che belli e che merito e avete avuto due figli? quattro figli? uno è proprio qui è un gigante un gigante faceva l'atletica lui era anche un figlio campione di ostacoli lui faceva gli ostacoli bello eccola qua eccola qua schierata con tutta la famiglia questo è stato fatto due settimane fa a Ponte d'Era alla presentazione del libro questa è mia figlia Paola sì e questo è Giampiero dietro con la moglie e sono i miei nipoti sono dietro bellissima famiglia signora lei ci va ancora in Vespa? ah certo che va di Vespa ma scusi ma perché non dovrai io sto benissimo no guardi sto meglio di mia figlia ha detto la dottoressa che lei ha il colesterolo alto oh capito dio senta scusi io me la porto a casa sua madre non è sequestro di persona eh me la porto via non lo devo dice con la manina così non lo devo dire non lo saprà nessuno questo non lo saprà nessuno quindi lei no mi tengo fortunata guardi mi tengo fortunata devo ringraziare i miei genitori e dove vivo io vivo c'ho la casa abitazione lungo Tevere Flaminio davanti allo studio allo stadio allo stadio lì è il fine mondo l'inquinamento e invece c'ho un'altra casa al mare fuori Terracina un chilometro fuori con i gatti vedo alla sera la luna il giardino e sto a lavorare nel giardino lavoro nel giardino e vai in Vespa ma porta anche persone dietro passeggeri qualche volta se capita sì ma no perché non voglio avere responsabilità signori la storia è compratevi una Vespa amate i gatti andate a vivere al mare mangiate pane uova bollite e forse sarete come la signora forse non è detto grazie signora grazie signora di essere stata con noi questa e comunque va detta una cosa anche io gliela dico piano piano mio marito ha la Vespa e andiamo in giro insieme benissimo io non la so portare però è molto facile certo oggi nel caos del traffico mi sta andando anche di quella che non sa portare la Vespa ma signora è stato un po' è stato un po' è stato un po'